Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi, prosegue la preparazione della Lucchese in vista della delicata sfida di sabato sera ore 20 e 30 al Porta Elisa contro la SPAL, preparazione condizionata anche dal maltempo soprattutto nella giornata di giovedì. Una sola novità si profila rispetto alla squadra sconfitta a Carrara ovvero l'ingresso di botta tra i titolari da trequartista alle spalle di Fanucchi e Terrani con esclusione di Sartori. Aggiungiamo che Lucchese-Maceratese, ventesima giornata, si giocherà sabato 30 gennaio in Porta Elisa alle ore 17 e 30. Vediamo anche il quadro degli squalificati in Lega Pro girone B, squalifiche anche pesanti, quattro giornate per l'allenatore Lucarelli del Tutto Cuoio, due a Tassi del Savona e Ivano Feola del Tutto Cuoio. Una giornata Signorini-Rimini, Tempesti Ferraro-Tutto Cuoio, Cristiano Luparoma di Bari-Pistoiese, Cocuzza-Savona, Mallu-Sancona, Andrea Feola-Rezzo, Bensaia-L'Aquila, Sacilotto-Siena, Castagnetti, Spal-Nardi, Sant'Arcangelo. Ammende di 2.000 euro a Pistoiese-Tutto Cuoio di 1.500 euro al terramo, 500 euro ad Ancona e l'Upa-Roma nella Lucchese rimane in diffida Jacopo Fanucchi. Parliamo del Viareggio dopo la vittoria sullo Spoleto. Il Viareggio è atteso domenica dalla trasserta di Colle Valdelsa contro la Colligiana, Bianconiere ancora con qualche problema, Algino Manni, Pierini dovrà infatti fare almeno divisi belli, squalificato, ma non saranno disponibili neppure gli infortunati Rosati e Matteo. E ora parliamo della presentazione di un libro che ha come tema Calciopoli, dieci anni dopo. Si chiama In Inter Veritas ed è il libro con il quale lo scrittore tifoso Luca Carmignani cerca di fare chiarezza sulle false interpretazioni di Calciopoli, a dieci anni dalla revoca dello Scudetto e dalla retrocessione in Serie B della Juventus. Il libro è stato presentato nella sede dell'Inter Club Luca, 150 iscritti guidati dal presidente Gianluca Martinucci e dal vice Andrea Baroni. L'Italia è il paese del revisionismo, ha spiegato Carmignani, ed in questi anni in molti hanno tentato di far passare la tesi che la società bianconera sia stata colpita ingiustamente e che fosse l'Inter ad essere colpevole di qualcosa. Niente di più falso, ed è per questo che nel libro sono anche raccolti 28 provvedimenti giudiziari in sede sportiva e in sede penale, in cui la Juventus e i suoi dirigenti sono stati ritenuti colpevoli, tra l'altro anche di associazione a delinquere. Ma c'è un altro motivo che ha spinto Carmignani a realizzare il libro. Sostanzialmente è scritto poi alla fine per dare giustizia a due persone, una è Giacinto Facchetti, l'altra è Gigi Simoni. Sono due persone che da Calciopoli hanno avuto solamente dei torti, hanno subito delle grosse ingiustizie e purtroppo, ahimè, quello che viene detto proprio su Calciopoli fa sì che le verità vengono negate. Gigi Simoni è la prima vittima di Calciopoli perché era l'allenatore dei Neroazzurri nel 98, la stagione del rigore negato a Ronaldo, nello scontro decisivo contro la Juventus. Quell'Inter poteva vincere lo scudetto e aprire un ciclo e invece non andò così. Lo scandalo era ancora da avvenire, ma fu lo stesso presidente della Lega di allora, Franco Carraro, ha ricordato Carmignani, a dire che anche quella stagione era stata falsata. Facchetti invece è stato vittima due volte, prima come presidente dell'Inter e poi perché sottoposto ad inchiesta quando ormai era deceduto, quando cioè non poteva più difendersi, caso unico nella storia giudiziaria italiana. E nel corso della serata c'è stato un collegamento telefonico con Gian Felice Facchetti, figlio del grande Giacinto, che non a caso campeggia sulla copertina del libro di Carmignani. Il ciclismo dopo il successo di Eugenio Bani, amore e vita, va ancora segna alla vuelta a Tachira in Venezuela. Il bis per la squadra di Patron Ivano e Cristian Fanini è arrivato grazie a Marco Zamparella, che nella tappa più lunga della corsa si è imposta alla grande sul traguardo di Tovar. Sono davvero entusiasta per queste due vittorie, ha commentato Ivano Fanini. Questo per noi è il migliore inizio di stagione degli ultimi 20 anni. Ancora per il ciclismo è Gianni Bugno, il primo grande nome, il primo vero colpo di Val Ternieri per il premio Federità allo Sport 2016. L'ex ciclista monzese, due volte campione del mondo nel 91 e nel 92, però solo il primo atleta di spicco che l'instancabile organizzatore intende portare a Lucca in vista della bella manifestazione che si terrà a maggio. Due novità in casa Bama al Topascio, una sul campo ed una in panchina. Per ciò che riguarda il parquet, la società del presidente Sergio Guidi ha ingaggiato Nicola Bongi in uscita dal Bottegone. Il playmaker Pistoiese va ad aumentare la qualità sul perimetro rosa-blu. In ambito tecnico è stato invece definito l'accordo con Marcello Mencarelli, due innesti per noi importanti, ha dichiarato il presidente del Topascese Sergio Guidi. Siamo ai motori, fra poco più di due mesi scatterà il campionato italiano rally, duello tra Andreucci e Scandola con un possibile terzo incomodo. Poco più di due mesi, non un'eternità, al via del CIR 2016. La data è già fissata, 18-20 marzo, con l'attesissimo 39esimo rally del Ciocco e della Valle del Serchio, di cui prossimamente vi daremo anche ghiotte novità. Il leitmotiv del campionato pare già delineato Andreucci da battere con Scandola nel ruolo dichiarato di sfidante assoluto e più che legittimo. Del resto, lo scorcio finale del 2015 ha testimoniato l'estrema affidabilità e velocità della debuttante Skoda Fabia R5, anche se in tale contesto va capito fino in fondo quanto il pluricampione Garfagnino abbia pigiato sull'acceleratore oppure si sia limitato a controllare e gestire. Di fatto, Ucci, alla soglia dei 51 anni, ci tiene e ci terrebbe un mondo a cogliere il decimo titolo della sua formidabile carriera, che lo pone già adesso di diritto come uno dei più grandi del rallismo italiano di sempre. Dall'altra parte, il veronese Scandola vorrebbe concedere il bis dopo la vittoria del 2013 e pare avere tutte le carte in regola per provarci. Ma a notizia dell'ultima ora potrebbe spuntare anche un terzo incomodo. La BRC, che non è più convinta di proseguire il rapporto con Basso, avrebbe infatti contattato il tre volte campione europeo Luca Rossetti, col quale disputare l'intero CIR, da verificare se nei prossimi giorni la trattativa andrà in porto e in quale misura. Certo, un Rossetti che torna in pista, anzi sulla strada, si porrebbe subito nel ruolo di terzo incomodo, quasi come una sorta di mina vagante. Infine, come avevamo anticipato e ha confermato, che ogni rally sarà composto da due gare distinte al termine di ciascuna tappa, con relativa attribuzione di punteggi dimezzati, da 7,5 punti al primo classificato fino a mezzo punto al decimo. I non iscritti al campionato non prenderanno punti, ma di fatto li toglieranno agli iscritti. Sappiamo già che tutto ciò susciterà qualche polemica, sicuro. Vi ricordiamo, venerdì 29 gennaio, speciale puntata straordinaria di Rombo di Motori, in diretta a partire dalle 21, ospiti dei nostri studi Paolo Andreucci e Anna Andreucci, un appuntamento sicuramente da non perdere, potrete intervenire anche con i vostri sms. La palla a volo, terzo posto e numeri importanti, questi vedoni che il nuovo anno ha portato alla palla a volo massa. A Roma l'ennesima riprova di questa quadratura trovata dalla squadra di Andrea Masini, che ricordiamo gioca le sue gare interne al palasport di Camaiore e che mantiene una forte connotazione versiliese. Nel prossimo turno la palla a volo massa giocherà proprio a Camaiore, domenico ore 18, contro i Lupi Santa Croce. Chiudiamo con il rugby, a vincente partita a livello giovanile tra le rappresentative dei centri di formazione di Reggio Emilia e di Livorno. Nella squadra toscana erano presenti anche tre giocatori dell'Union Versilia, Andrea Raffa, Daniel Morotti e Tommaso Vendramini. I tre calamarini si sono comportati davvero bene nel quadro di una partita spigolosa. Per la cronaca il match si è concluso in parità, 15 a 15, da segnalare nelle file della formazione toscana anche la presenza di Lele De Felice dei Titani di Areggio. E con questo è tutto, anche per quanto riguarda la pagina sportiva, vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa il Tg prosegue con la terza ed ultima parte.